Dove trovare un modo per andare a me da qua. Dobbiamo chiamare uno bravo, ma molto bravo. Qualcuno del governo può fare qualche piccia per far messe prima. Era meglio la galera. Non so se ci stanno pure le storie. L'hai già conosciuto, Don Rapide? E' più. Come un gatto in tangenziale, ritorno a Coccia di Morto. Abbiamo organizzato un pranzetto fuori. È un posticino carino, si chiama Coccia di Morto. Coccia di Morto, no. Coccia di Morto, si dice. Dal 26 agosto al cinema. Dal 26 agosto al cinema.